Ciao amici, benvenuti alla lezione. Oggi impareremo 50 preposizioni dopo quali ci vuole il caso genitivo e naturalmente se si trovano davanti il nome, pronome, sostantivo, aggettivo o numerale questi dobbiamo declinare per il caso genitivo. Naturalmente il genitivo si usa anche per la negazione, usiamo quando non abbiamo qualcosa, niet, ogni non sono preposizioni, invece без, senza è una preposizione. Le preposizioni non troveremo mai davanti alcun verbo, questo da ricordare e i sostantivi nostri declinati risponderanno alle domande cavo, cv, i nomi, i pronomi cavo perché animati e gli aggettivi e numerali risponderanno maschili e altri kakova, niet kakova cveta che cosa dobbiamo ricordare? che si può costruire frasi in due modi ad esempio qui tutto al nominativo tranne ultima parola, macchina e qui invece si può costruire la frase dove tutto viene declinato il pronome è aggettivo e sostantivo ad esempio il significato è stesso andiamo a imparare a declinare esistono le preposizioni che si usano nelle circostanze di logo, di tempo, di ragioni, scopo o condizioni di logo rispondono alle domande per il tempo si usa la domanda quando per la ragione perché e poi per le condizioni applica come slovi a quale condizioni oppure perché, зачем e come, cac facciamo alcuni esempi per capire meglio staid u acna vicino alla finestra per l'acchica tirare fuori dalla scatola padet s'nieba cade dal cielo Quando, quando, v tечение часa entro un'ora, v продолжении разговорa durante la conversazione, ad l'età da zime, dall'estate all'inverno, после abeda, dopo pranzo, sredi дня, nel mezzo della giornata, na canone Rаждistva, alla Virgilia di Natale, после i prasников, dopo le vacanze, da utra fino al mattino. Perché? Perché? Dal gelo, atmarosa, dal dolore, sgoria, per interesse, isinteressa, a causa di un errore, isza ошибki. Le condizioni, senza desiderio, virgilanie, per affari, la dela, invece di fratello, mesta brata, oltre a me, crome minha. Andiamo a conoscerli. Prima preposizione, без, senza. Senza alloggiamento, senza tetto, senza casa si può usare. In questo caso, без, ci vuol gelia, gelio al nominativo. E ricordate quelli che in colore giallo, si usano solamente per il caso genitivo. Quelli in colore arancione, si usano anche in altri casi. Abbreviatura, BOMSH, significa in russo, BARBONE. E tutto in maiúsculo, si iscrive di solito, e significa без определенного места, жительства. Определенное, neutro, место, neutro, жительство, neutro. Ma declinato, без определенного, чего, места, жительства. Secondo, для, per, lavoro, для, чего, для, работi. Declinato. Do, fino, a, ricinto, porticina. Do, zaboro, da, calitki. Si usa anche nel caso accusativo e strumentale. Schema, ad esempio, schema. U, presso, vicino, a, cancello, del cortile. U, чего, u, varot. Iz, da, all'esterno di albergo. Esco, dall'albergo, ad esempio. Iz, чего, iz, gastinice. Iz, ya, me. Yama, al nominativo. Iz, чего, iz, ya, me. Od, da, oppure dal. Dalla costa, ad esempio. Od, bieriga. Inizio a notare dalla costa. Od, leta, do, zimy. Dall'estate all'inverno. Vnie. È importante questo. Ad esempio, vnie, zakona. C'è un bel film fuori legge. Oppure, oppure, vnie, si bia, fuori di sé. Numero nove. Izza. Dietro a causa di. Magari per colpa tua, izza, ti bia, successo qualcosa. Oppure, izza sarebbe da dietro di albero. Oppure, uscire da tavola. Izza sta là. Alzarsi e andare via. Oppure, da dietro l'angolo. Viti, izza, uglà. Ispat, da sotto. Ispat, kresla. Kreslo, poltrona. Ispat, kresla. Stol, maschile. Ispat, stala. Stol, tavolo. Si tratta di logo, ad esempio. Vosli, vicino, stazione. Ti aspetto vicino, stazione. Vosli, вокzala. Aspetto vicino, siete in vacanze. Vicino villaggio. Mi sono fermato. Bliz, civo, direvni. Okala, ancora vicino. Vicino pilastro. Vicino palo della luce. Okala, civo, stalba. Protiv, contro. Contro, corrente. Protiv, civo, protiv, ticinia. Napproti, davanti, davanti, la scola. Napproti, civo, scola. Vperiod, davanti, di fronte, casa. Vperidi, civo, doma. Vdol, lungo via. Vdol, civo, вдol, ulici. Ido, vdol, ulici. Sridi, tra più cose o le persone. Ad esempio. Tra i miei colleghi sono più bravo. Sridi, galleg, cavo. Passridi, in mezzo campo. Passridi, civo, pola. Vdol, tra, tra gli alberi. Vdol, civo, direvjev. E si usa anche all'accusativo instrumentale. Ho detto che in arancione si usano anche in altri casi. Vmesta al posto di o invece di fratello. Vmesta cavo, brata. Cromi, trane, eccetto, trasporto, pubblico, o trasporti pubblici. Cromi, dobbiamo declinare, общественный transport. Cromi, общественnava, transporta. Cromi, civo. POSLE, dopo. Dopo, vacanza. POSLE, civo, POSLE, OTPUSCA. VACRUCH, intorno, stadio. Intorno allo stadio. VACRUCH, civo, stadio, na. Sto correndo. Intorno allo stadio. OCALA, vicino, ristorante. OCALA, ristorana. Ventisei. MIMO, passare accanto o superare. Ad esempio, passare accanto o teatro, senza entrare. MIMO, civo, teatra. ZADI, dietro l'auto, ad esempio. ZADI, automabilia. MACHINA, zADI, MACHINI. ZADI, civo. SLEVA OT, a sinistra, di, volante. Anche qui dobbiamo declinare. SLEVA OT, rуля. SLEVA OT, doma. SPRAVA, a destra di, passeggero. SPRAVA OT, passajira. PASSAJIR, al nominativo, ad passajira. Terzo. Trenta, scusatemi. Il tempo. VTECENI, VPRODOLJENI, E NACANUNE. VTECENI. ENTRO, DURANTE, UNORA. ENTRO UNORA. DURANTE UN GIORNO. VTECENI, CHASA, CHEGO, VTECENI, SUTAK. VTECENI, CHEGO, SUTAK. VTECENI, CHEGO, SUTAK. VTECENI, DURANTE, CONVERSACIONE. VTECENI, CHEGO, RASGIVORO. Radi in colore giallo si usa solo per genitivo Per amore Radi civo, radi ljubbi Radi cavo, radi ljubbimava cilaveca Putem, con metodo Con metodo contabile O con inganno Putem abmana Putem patciota Putem rasciota Nasciot su a proposito di licenziamento Direttore ti dice a proposito di licenziamento Quando ti licenzi Nasciot uvalnение, чего? Pa povodo, su riguardo divorzio Po povodo, su riguardo Quanto mi devi Vnikaya Pasrestiom rasledovania Questa je in verde cade e sarebbe rasledovania Per questo ho messo così V roli nel rolo di avocato Nel rolo di giudici, traductor Nel rolo di avocato Nel rolo di avocato Spustia Spustia Dopo cento ani Spustia sto non god Let Spustia sto let V отличio od A differenza di te A differenza di me A differenza di voi A differenza di amici V отличio od V отличio od Tepia V отличio od V отличio od V отличio od V отличio od Sillu Afordsa di A causa di situazione attuale siamo tutti a casa в силу сложившейся ситуации в целях a fine di precauzione в целях предосторожности за счet a causa di fondi a sinяти за счet выделенные средства за счet выделенных средств в виде sottoforma di reclusione тюремное заключение в виде тюремного заключения sottoforma di recompensa incontanti в виде денежного возnagrаждения due rimasti согласna a essensi della legge согласna закона согласna законодательства non законодательство decliniamo e ultimo в зависимости от a seconda di cosa a seconda di transazione в зависимости a сделки riguardiamo посредине стола in mezzo di tavola напротив вокруг attorno слева a sinistra дома справа a destra dal casa далеко дома lontano da casa у дома vicino la casa около дома abbastanza vicino bene non scrivo qui traduzione così vi esercitate allora ustala vicino okala stala anche vicino bliz stala vicino возле stala vicino be stala senza tavolo kto против советов contro sovietici ok contro qui против течения contro corrente qui va всiom vиновati все кроме меня tutti colpevoli trane me вдоль дороги sarebbe lungo via против virus al nominativo против virusa grip al nominativo con due pezzi scrive против grippa ok впереди всех davanti tutti oppure ancora qui contro mano va bene против tечение contro mano altro cosa dobbiamo abbiamo visto si dice ok ok quando vicino questi abbiamo visti vedete vermicino uscito dalla mela oppure ok ok vicino u ricky betula vicino al fiume u palma palma oppure autobus at iechal ad doma at civo ad doma at tas ki sta soffrendo qui due dottori che si insultano durac e chemo e lui dice da shemo e sento quando c'è od dovete questo durac vedete e declinato ad durac magazine s 10 i 20 s 10 do 20 dovete declinato vmetri друг ad друга e du ad kavo ad babushki gore ad chivo ad u ma ok urari vidiamo natimo magazine работает aperto s 8 do 9 8 9 si sono declinati oppure posle chivo posle abeda abed al nominativo posle chivo posle abeda u kavo u minna striccia anche al genitivo ok la chivo ok la 8 o skalke ok la skalke bez chivo bez 5 minut 8 od 5 часов do 10 ricordate questo e altri significati diversi ultima pagina logo viti iz comnati lasciare la stanza ragione ad casat iz gordesti rifiutare l'orgoglio e definizione platje iz sciolka vestito di sete studiate bene grazie per attenzione alla prossima ragazzi grazie